Il Milan è sempre stato, diciamo, il sogno. È sempre stata la società dove ho sognato di giocare, anche con i giocatori che sono stati qua, soprattutto i difensori. Beh, quando è arrivato lui mi ha fatto sentire molto sicuro perché sapevo che con lui potevamo cambiare ed essere più forti. Sono venuto qua per fare, diciamo, il mio. Mi piace lavorare, mi piace impegnarmi anche con i miei compagni. Eh, lui è stato molto bravo e infatti grazie a lui e insieme ad altri abbiamo vinto il campionato. Però si può sempre migliorare, no? Ho sentito un po' quello che stai dicendo. Hai ragione. Prodi ha anche portato un piccolo regalo. Grazie. Indietro, tra un piccolo pezzo della maglia. Grazie. Niente.